La Guardia di Finanza ha arrestato in Libano il latitante Bartolo Bruzzaniti, di 46 anni, originario di Locri, considerato tra i più importanti narcotrafficanti a livello internazionale. Il latitante è stato rintracciato in un ristorante di Giugnè. L'uomo era ricercato da quattro procure, quella di Reggio Calabria, Milano, Genova e Napoli, sotto il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Dal mese di ottobre del 2022 in particolare si era sottratto all'arresto nell'ambito dell'operazione Levante, coordinata dalla DDA Regina, che aveva coinvolto 36 persone. Bruzzaniti è stato arrestato dai finanzieri di Reggio Calabria con il coordinamento della DDA diretta da Giovanni Bombardieri, a conclusione di indagini svolte con il supporto delle più importanti istituzioni ed agenzie europee ed internazionali impegnate nel contrasto dei crimini trasnazionali. Nel corso delle indagini che hanno portato all'operazione Levante sono state sequestrate oltre quattro tonnellate di cocaina, per un valore stimato di 800 milioni di euro. Bruzzaniti sarebbe responsabile della progettazione e dell'esecuzione di un vasto traffico di sostanze e stupefacenti dal Sud America alla Calabria, consistente in importazioni periodiche di oltre due tonnellate ciascuna. Nell'operazione Levante è stato coinvolto anche il fratello di Bruzzaniti, Antonio, in un primo tempo irreperibile pure lui, e successivamente arrestato al rientro dalla costa d'Avorio, il paese in cui si era stabilito. Bartolo Bruzzaniti è l'ultimo dei 76 esponenti della criminalità organizzata, tra cui 35 latitanti, che in tre anni il progetto ICAN ha consentito di arrestare in tutto il mondo.